E carissimi amici, carissime amiche, benvenuti ancora sul canale. Continuiamo ancora la nostra trattazione nel caso di Alice Neri e proseguiamo quest'oggi con un'analisi di alcuni punti del lavoro, diciamo, delle conclusioni del lavoro ad Ingroia, perché penso che sia importante. Ecco, andare a fondo a dei dubbi, a delle problematiche, perché ormai il quadro della situazione sembra abbastanza chiaro. Da una parte ci sta una sicura o un probabile rinvio a giudizio da parte del Galù, perché giustamente c'è una scelta tesi, però dall'altra parte c'è un lavoro che va a porre, diciamo, dei dubbi notevoli, basati da supporti scientifici o fattuali, quindi non, diciamo, di opinioni personali, per cui io sono sicuro che gli inquirenti valuteranno, valuteranno, perché altrimenti ci si troverà nella condizione poi di un GIP che quando disposasse, se disposasse in via giudizio del Galù, potrebbe in quella sede chissà anche ritenere che ci sia bisogno di un ulteriore approfondimento. Ora, alcuni punti che potrei pulire alla vostra attenzione del lavoro dello staff dell'Avvocato Ingroia e è, ad esempio, il senso di agitazione proprio padossistica di questo cosiddetto innominato innominabile che pervade, ecco, pervade tutto il periodo, diciamo, successivo alla tragedia, che certamente può essere relativamente normale, però è paradossale nel momento in cui una persona che magari non c'entri in un delitto del genere possa sentirsi così agitato. Abbiamo, ad esempio, una intercettazione del 3 di aprile in cui lui è molto agitato perché sospetta che gli abbiano aperto la macchina per introdurre qualche microspia e quindi questa agitazione penso che sia paradossale come pure quando riferisce quando i colleghi di lavoro riferiscono una sua costante agitazione dal 18 novembre in poi sul luogo di lavoro cosa che non aveva mai avuto e che non è soltanto, diciamo, una forma di dispiacere per quello che era successo. Poi abbiamo quella famosa telefonata dell'8 aprile ai carabinieri che nasce dal fatto che si diceva che ci sarebbe stata una svolta. Allora lui chiedeva, diciamo, a questo carabiniero insistentemente cosa sapesse il fratello di Alice perché le indagini come stessero andando se le indagini erano in chiusura se lui poteva stare tranquillo e gli veniva detto di non preoccuparsi se non aveva fatto niente di non preoccuparsi. E in quel frangente che allora lui dice no perché poi io mi sono dimenticato di dire che in un episodio accaduto a fine settembre c'era stato questo sanguinamento di cui sembrava soffrisse Alice che gli aveva provocato niente di meno l'imbrattamento di una t-shirt una felpa in un pantalone che poi insomma non si sa insomma erano stati bene o male distrutti anche questi il pantalone non si sa che fine abbia fatto forse sarà stato solo lavato però questo sanguinamento così abbondante che avrebbe imbrattato tutto ciò non risulta diciamo né da informazioni mediche e né ci dice così diciamo il marito Nicolas mai niente di simile anche perché se ciò fosse avvenuto a fine settembre già era un periodo in cui lei insomma non aveva nemmeno il ciclo diciamo perché nei primi giorni di ottobre noi sappiamo da dichiarazione di Nicolas dovuto ai primi giorni di ottobre che venne fatto già allora un test di gravidanza proprio perché c'era questo ritardo quindi se questo terzo uomo riferisce questi episodi di sanguinamento derivante a fine settembre ovviamente non poteva essere legato diciamo a un ciclo naturale poi in questo lavoro della Void in Groia quello che anche risulta molto strano è il fatto dei dei telefoni o del telefono per meglio di dire un telefono che quasi mai diciamo spento la sera quella 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 notte risulta spenta ma poi acceso alle 5.04 e almeno fino alle 7.34 viene costantemente viene costantemente agganciato al wifi di casa ora se questo telefono viene agganciato al wifi di casa ora questo terzo uomo indica come spostamenti nata moil di cavezzo poi il bar sister di bar motta ora è ovvio è naturale semplice che capire come nel momento in cui si esce di casa e si va alla tamoil di cavezzo si va in un bar bar sister di bar motta è ovvio che il telefono non può essere più collegato al wifi di casa ed invece sembra che sia rimasto collegato alla wifi di casa quindi come è possibile che anche alle 6.49 quando poi lui timbra l'ingresso diciamo alla wam alle 6.49 in quel momento ancora il suo telefono risulta agganciato alla wifi di casa e né lui ha mai detto di averlo lasciato a casa capite e allora qual è la stranezza che nello stesso tempo però mentre risulta il telefono agganciato sempre alla wifi di casa però alle 5.27 risulta sempre dallo stesso account di google che si trova anche nello stesso momento alla stazione di servizio tamoil di cavezzo alle 5.27 capirete che questa ubiquità telefonica cioè un telefono che corrisponde che c'è una posizione che corrisponde al wifi di casa sempre per tutta la mattinata e nello stesso momento alle 5.27 risulta anche alla stazione di servizio tamoil di cavezzo è veramente strano è veramente strano significa sicuramente che c'è una presenza di due cellulari agganciati allo stesso google take out come si chiama è ragionevole ipotizzare ciò proprio a livello scientifico perché altrimenti non si capirebbe come dallo stesso account un telefono sta a casa agganciato al wifi e si muove invece anche per il territorio per cui ciò perché è importante tutto questo perché si era sempre detto che questa persona avesse un alibi inattaccabile perché c'erano questi spostamenti verificati che non lo rendevano compatibile con la sua presenza eventuale ipotetica ai laghetti sulla scena del crimine questo adesso non non accade non accade ci sono questi spostamenti anomali questi orari anomali per non parlare anche di testimoni che smentiscono anche l'alibi della colazione e allora è un po' da rivedere è un po' da verificare mi sembra di dire qualcosa di normale e e ciò perché non è che lo si fa con chiunque abbia conosciuto questa ragazza o chiunque sia stata il suo collega e perché è emerso in maniera incontrovestibile un rapporto paradossale un rapporto che era stato anche negato diamante invece poi è stato confermato diamante ma diamante diciamo compulsivo geloso che verificava che assillava è per questo che 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 l'avvocato ingroia ha fatto tutto un lavoro non è che l'ha fatto su un passante su un amico o su un conoscente c'era questo ruolo assillante questo ruolo incredibile negli ultimi mesi di questo personaggio nella vita di di Alice che non era casuale che non era superficiale soprattutto e quindi quando si ha tutto questo paradosso questo fatto di controllare di verificare di seguire di scrivere di regali litigie e tutto e poi improvvisamente tutto si interrompe quando si interrompe tutto questa paranoia quando è che si interrompe stranamente dal pomeriggio di quel 17 di novembre in poi quindi all'improvviso da quella sera del 17 la mattina del 18 il giorno 18 non non si hanno più contatti né si hanno interessamenti semplici da parte di questo innominato nei confronti di colei che fino al giorno prima era stata la sua amante era stata colei che era nei suoi pensieri che veniva telefonata seguita messaggiata compulsata poi all'improvviso niente più si dice va al lavoro non la vede non si interessa gli chiedono ma come mai Alice non è venuta vabbè non lo so perché lo chiedete a me telefonate come se fosse sceso da quella sera del 17 un muro di indifferenza fra lui e la la ragazza vi renderete conto che se emerge prima un rapporto così assiduo quasi paranoico ossessivo e compulsivo non è nemmeno credibile che dal pomeriggio sera del 17 ci sia poi un rapporto di indifferenza totale mi sembra che ma proprio a livello logico non deve deve essere questo e quindi ecco perché va approfondita questa questione anche degli alibi e ci sono anche delle amiche che hanno reso delle dichiarazioni a Sitt dicendo che che Alice aveva confidato a lei questo rapporto dal quale in qualche modo si voleva anche allontanare perché era fatto di troppo si era fatto troppo assillanti messaggi troppo assillanti e stiamo parlando di una deposizione che riferisce del di un di un colloquio con questa amica del 10 di novembre un'altra amica racconta riferendosi a un colloquio un po' precedente del 15 di ottobre come Alice avesse confidato a lei il fatto che era molto costeggiata da quest'uomo sposato che era disposto a suo dire a lasciare la moglie per lei quindi voi immaginate se fosse vero o meno c'era questa convinzione se abbiamo questa convinzione che l'uomo sposato avrebbe lasciato la moglie per lei abbiamo un contesto in cui c'è evidentemente questo ritardo del ciclo per cui fosse incinta non incinta voi capirete bene come la situazione possa essere quasi esplosiva anche la la psicologa dove andava per un periodo dove è andata Alice quindi aveva in cura Alice per un supporto psicologico questa psicologa pure dichiara anche a me ha riferito che era innamorato di un ragazzo campano un cosetto del sumo che le le mandava solo canzoni d'amore le faceva regali e le mandava le canzoni di Gigi D'Alessio e mi riferiva anche di approcci sessuali con lui ecco quindi non è che parliamo dell'amicizia che cosa c'entra c'entra perché qua emerge una situazione di una relazione intensa di una relazione profonda regali canzoni messaggi e il fatto di dire lui vero non vero insomma lascerebbe la moglie per me c'è il ritardo del ciclo che cosa sta succedendo e se poi mettiamo anche quell'altra testimonianza che è tutto documentato insomma questo poi è da verificare è tutto documentato di un'altra donna che testimone testimone nelle settimane precedenti anche di litigi a cui lui lei è assistito nel pascheggio in un pascheggio a cavezzo fra Alice e questo innominabile toni alterati spintonamenti lui che si sfoga strappando foglie da una siepe che cosa cosa spingeva questo insomma a questa rabbia non pensiamo che fosse uno scambio di opinioni normali ecco perché è importante andare fino in fondo per vedere se queste ombre centrino o sono soltanto casuali possibile ma che siano casuali e è il movente ecco se si dice che il movente abietto del tunisino sarebbe quello di una tentata violenza sessuale non è che sia del tutto impossibile ma ci siamo detti come questo movente abietto sia un po' strano perché sarebbe avvenuto alla fine di due ore di convivenza in macchina dove hanno anche fumato non so se hanno fatto altro ma comunque poi alla fine dopo due ore ci sarebbe stato questo tentativo di violenza sessuale che è strano e questo sarebbe il movente ma in questo caso qui facendo l'avvocato del diavolo se questa persona c'entrasse qualcosa il movente che si riconduce a questa situazione ipotetica ipotetica che Alice potesse essere in stato interessante e che quindi fosse una bomba ecco questa notizia qua ma la sua preoccupazione che era incinta questa è oggettiva questa è oggettiva perché ci sta un'altra sua amica che verbalizza cioè testimoni in data 7 di novembre come Alice fosse molto preoccupata per il ritardo anche perché lei avvestiva le nausee quindi confidò a questa amica in data 7 di novembre che era molto preoccupata perché sentiva anche le nausee quindi era lei stessa che che era preoccupata di questo e e il mercoledì successivo quindi due giorni dopo giorno nove si confidava con Nicolas quindi poi se se a ciò mettiamo tutte queste consultazioni sui siti web sui ritardi test di gravidanza questo e quell'altro possiamo ragionevolmente anche pensare che a un certo punto lei abbia verificato effettivamente con un test di gravidanza e se lei quindi avesse verificato con un test di gravidanza non so fatto il 10 11 o 12 di novembre e questo magari fosse uscito positivo voi pensate cosa poteva succedere magari comunicando una notizia del genere cioè quello che e io voglio sottolineare è che questa ipotesi di questa ragazza che fosse rimasta incinta non è proditoria non è che si dice tanto per fantasia ci sono delle testimonianze anche di amiche che lei era preoccupata ci sono le sue ricerche su internet di questo fatto qua c'è il fatto che lei assumesse in quei giorni questo farmaco noto farmaco quando uno è incinto insomma per le nausee per il vomito quindi ci sono dei problemi ci sono dei dubbi l'aveva confidata allo stesso marito per cui cosa va a succedere che se lei o mai avesse fatto un test di gravidanza in quei giorni 10 11 o 12 di novembre e fosse uscito effettivamente positiva la gravidanza e lei lo avesse comunicato a chi lo doveva comunicare pensate che sarebbero stati i giorni normali sarebbe scaturito ecco qua che un movente ecco si può ipotizzare e se quindi a ciò noi vediamo anche l'alibi che non è più granitico un alibi da chiarire effettivamente allora cosa noi ci domandiamo ci domandiamo è il caso di resettare tutto e di verificare queste cose qua è il caso di procedere a queste verifiche perché è importante sarebbe importante perché così si tolgono dei dubbi e si va avanti poi magari addosso al tunesino che rimarrebbe diciamo l'unica avere una ipotetica non so come motivazione abbietta ma altrimenti se ciò non si facesse non lo so o sarebbe lo stesso GIP a dover dire mancano degli elementi che dovrebbero essere riscontrati oppure si andrebbe a un giudizio che inevitabilmente porterebbe diciamo a una non giustizia per la povera Alice inevitabilmente perché perché tutti questi elementi che io molto marginalmente così vi ho riferito andrebbero essere assunti diciamo dalla difesa del del tunesino dell'avvocato Ghini che insieme a tutte le altre motivazioni che lui ha insomma di ordine procedurale di ordine tecnico andrebbe a configurare non un dubbio ma mille dubbi e alla fine giustizia non sarebbe stata fatta ecco perché è necessario e sarebbe auspicabile da parte di tutti il fatto di voler verificare le cose fino in fondo non è non è diciamo un'opinione non è un fumo che si alza così giusto per perdere tempo va bene diciamo così no andiamo a verificare perché sono dati tecnici di 500 pagine più allegati che sono dati tecnici non è che parliamo di opinioni sono testimonianze testimonianze nuove parecchie sono nuove testimonianze quindi mi auguro che pacificamente si possa andare ad un chiarimento in tal senso grazie amici me un abbraccio a tutti quanti voi ciao a tutti vi auguro una splendida giornata grazie a tutti